I suoi organi aiuteranno altre vite. La scelta coraggiosa è stata fatta dai genitori. Si è spento ieri pomeriggio al nosocomio perugino Santa Maria della Misericordia il piccolo Michele di otto anni, rimasto gravemente ferito durante il ribaltamento del furgoncino sul quale era a bordo con il suo papà. L'incidente è successo sabato sera, poco prima delle 20, nella tenuta agricola della famiglia a Vallingegno. La ricostruzione dei fatti sembra ancora un po' confusa, ma appare che il piccolo si è rimasto a bordo del mezzo mentre il padre ne era sceso per aprire un cancello. All'improvviso il freno sembra aver ceduto. Il piccolo potrebbe essersi buttato fuori, ma finendo rovinosamente sotto il furgone che si è ribaltato, oppure potrebbe essere rimasto intrappolato nella folle corsa del mezzo. Subito avvisato il 118, l'ambulanza è stata scortata sul posto, poco distante dalla statale, nei pressi del cimitero o dai carabinieri. Il corpo del piccolo è stato trasportato prima da uno zio che ha potuto raggiungere l'impervio di rupo nel quale il mezzo era caduto solo con un quad. Le condizioni del piccolo sono però subito apparse disperate. Ieri pomeriggio il decesso e la decisione dei genitori di donare gli organi per donare un po' di speranza a chi ancora ha la possibilità di continuare a vivere. Quanto successo ha lasciato sgomenta un'intera comunità, quella di Mengara, dove la famiglia, padre, madre e due figlie di 24-18 anni vive, quella di scritto, dove il piccolo frequentava la scuola, e quella di Gubbio. Grazie a tutti.